Noi abitiamo in Cernuzzi, un po' lontano però, questa guerra da tutta la parte Ucraina, questo nostro paese che stanno rovinando tutti, ma sono tutti, non solo soldati, ma sono tutti già. Ho detto che non toccano loro le persone, però loro hanno paura di niente, sopra i bambini loro camminano. Ho lasciato i miei bambini piccoli, adesso non posso anche tornare in casa, scusa. Lodmila è in Italia da otto anni, in Ucraina ha lasciato dei figli piccoli per venire a lavorare a Pescari, assicurare un futuro alla sua famiglia, così come i 1300 cittadini della comunità ucraina della provincia di Pescara. Io voglio dire una cosa, voglio chiedere aiuto all'Europa che mettono i sanzi per Putin, perché lui cammina sopra i nostri figli, non ha paura di niente lui. Aiuto non può l'Europa, perché noi siamo forti, dentro, cuore, anima, tutto, però non ce la facciamo da soli, serve aiuto. Io lo so che è difficile, perché dopo anche non viene di più casino per tutti, però almeno un pochino aiuto ci serve, perché i ragazzi muoiono là e nessun aiuto non c'è. Adesso queste ore più importanti che serve, adesso aiuto loro, loro non ce la facciano da soli. Questa mattina, nella conferenza stampa convocata da Massimiliano Pignoli, capogruppo dell'Udc in Comune a Pescara, insieme all'assessore Nicoletta D'Inisio, Larisa Soloviova, presidente ANOLF, l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Pescara, e Katrina Alerush, presidente dell'Associazione Interculturale Ucraina, nessuno escluso, si sono appellate alle istituzioni internazionali perché interrompano la spirale bellica innescata da Putin con l'invasione di Kiev. Certo che noi siamo tutti preoccupati, anche non solo quelli di Kiev, ma tutta l'Italia, perché i ragazzi sono chiamati in comissariato ad andare a difendere, cioè a salvare la nostra patria in tutta l'Italia. Non possiamo dire che vogliamo intervento militare, però se serve, penso che abbiamo anche noi diritto di avere quell'aiuto che ci tocca al nostro paese. È vero, non siamo entrati in atto, non siamo in Unione Europea, però viviamo in Europa e vogliamo un aiuto più concreto da tutti i paesi che ci circondano, che ci hanno promesso a noi questo. Intanto, domenica pomeriggio alle 15.30 in Piazza Sacro Cuore, si terrà la manifestazione organizzata dal gruppo consigliare dell'Udc di Pescara per non lasciare solo il popolo ucraino nelle sofferenze della guerra, come annunciato da Massimiliano Pignoli. L'Udc ovviamente sarà presente sia, ha collaborato l'organizzazione della manifestazione, sarà presente senza vissilli, senza bandiere, saremo presenti con il nostro assessore che rappresenta l'Udc in giunta, l'assessore Nicoletta D'Inisio, per testimoniare anche la vicinanza dell'amministrazione a questa manifestazione. Ovviamente noi chiediamo immediatamente, come lo stiamo chiedendo adesso tutto il mondo, il cessato il fuoco. Appena ci sarà il cessato il fuoco, ovviamente tramite Caterina, ci organizzeremo e faremo come abbiamo fatto per il Covid, la raccolta di cibo, indumenti e quant'altro, che attraverso le donne che lavorano qui saranno avviate, inviate ai cittadini lì di Chieve.